La Winter School è un tentativo per capire e comprendere che cosa sta succedendo attraverso le voci di grandi protagonisti e di grandi esperti per capire che cosa sta succedendo nella nostra società a livello globale e aperta a tutti di qualsiasi opinione e pensiero perché è un aiuto a una comprensione che permetta poi a ciascuno di sviluppare la propria ricerca della verità e i propri ideali e in questo senso è un'occasione per pensare insieme per avere un dialogo vero su ciò che ci tocca di più nella vita di tutti i giorni